o che cosa? Ma guardi, io parlo sempre di casa nostra, noi nel nostro partito abbiamo cercato e stiamo cercando di conciliare il rinnovamento con la giusta valorizzazione anche delle esperienze, io credo che bisogna tenere le due competenze. Cioè da un lato abbiamo Renzi e Berlusconi 80, però comunque un combattente, al di là delle discussioni, dei temi, delle critiche che si possono fare, a 80 anni scendere in campo, lottare, con tutti i soldi che hai, non lo so, ma il ministro, lei che farebbe a 80 anni, mi dica la verità. Non so se blocca, il punto è capire se blocca altri combattenti che ci farebbero, questo io non lo so, comunque non voglio parlare. Ma perché lei non va mai in tv? Cioè è raro vederla in televisione? Io ogni tanto ci vado, tendo ad andarci quando ho qualcosa da dire, preferisco fare le cose e poi raccontare che cosa ho fatto piuttosto che prima parlare. Le cose ne ha fatte due molto carine, guardi, le faccio vedere, no aspetti, guardi quello che voglio fare vedere, guardate questa foto.